picchi nozzi zio perché perché no no perché è importante che quello che devono vedere non capire l'anima ti spiega se non lo capisci lo sa però poi ci sono rispettati digli che è un discorso che stiamo facendo maturatesi io lo dico ma prima non ora io questo discorso ho trovato davanti e tu mi dai questa rispettura so può capitare il mese come può capitare un mese che invece uno diventano loro ma perché gli interessa il nostro allora loro quello che guadagnano vincente devono dare il 20 per cento al saldo stop no un quinto gli danno se loro guadagnano 100 euro al saldo gliene toccano 20 io mi sono andato a prendere un impegno che lo pagava a 5500 euro al mese regolarmente pagato arrivato a 160 si sono viste delle anomalie sul conto che loro stesse riuscito loro la banca ha scritto dicendo non entrate più sul condomani che ci sono degli errori che lo dobbiamo modificare a un ufficio la tua casa dice prima tutte cosa io ho manifestato io con me maurizio come dice si verga così 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 ma ma adesso sempre la cosa fate Ugane, tutto solare si è lavorato, allora abbiamo però questa volta è una cosa perciò dire una cosa amore che ci siamo amati quando ci concediamo se i bimbi non devi stare al problema io sono due te, ci sono due giorni ci si sa dire se è davvero perciò dire una cosa questo tu non ti rendi conto che sei profano se posso una capota ancora a niente che sei tu, ci sono due ore a te e poi a fine non ci confronto che ti dò una bella notizia grazie anche a te intanto a me ci vuole una procedura io ritardo un milione e un quarto d'ora perché abbia l'appuntamento ma io spero che torna a farci in mezzo a stare atti non ha cominciato tutto su di me da male e io sto qui, ci siamo aspettando e noi siamo rimasti e io l'abbiamo ritardato che sei fuori e noi c'erano condizioni e per me la cosa c'eravano i picci ci metti i picci per te la mettona lì fino a... cosa ero buono poi è successo a due anni andiamo a farlo ma di mezzo è un impegno un impegno come un valore dottore non ci ha distratto niente i soldi ci hanno preso tutti ma i soldi ci hanno preso 180 milioni così un po' di vecchi i soldi ci hanno preso e questo si avviene non lo viva sì non ha mai avuto ma io credo che l'avuto da lì fino all'ultima verità ma come c'era il corpo? non c'era il corpo ma come c'era il corpo? non c'era il corpo però stavanti non lo dovremmo un po' di maniera un bendo un bendo era il corpo no no, più in fortanze di età non c'era era più belletto erano i piccoli ma c'è poco quello che stessi i piccoli di caccerati puoi evitare i piccoli di caccerati ma dove hanno? dove hanno? dove hanno fanno? chi è schifo? chi è schifo? meglio mai sassata a Jimmy perché si è stampato tutte le nelle e tutte le cose ha detto che se entro l'una non gli do notizie che sono arrivati i documenti alle tre se ne stanno andando alla procura della Repubblica a denunciare a tutti ricordati che Jimmy è uomo tuo e Jimmy sta a cala di cavo a fare tutto quello che ci diciamo che non ci andava a fare e andava a fare chi? io mi ci afferro quindi diventa uomo mio io ho visto che se sei uomo mio e ne rispondo io si dice Jimmy si è avvenuto a fare qualche denuncia io ci rompiamo a Iddo e poi me lo acconsumo quelli perché si tratta di chi? io mi manco si deve permettere di dire determinate cose perché noi non ci siamo abituati a fare queste cose noi sbagliamo piangemo le conseguenze e poi ci facciamo nascere tagli in mocca e poi ci facciamo e poi ci facciamo